Pende sulla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea una vera e propria spada di Damocle che potrebbe portare, secondo alcuni, persino alla chiusura dell'invaso. Il dirigente generale del Dipartimento Energie e Rifiuti della Regione, Marco Lupo, ha infatti notificato a Tirreno Ambiente l'avviso di avvio del procedimento che potrebbe portare al rigetto dell'autorizzazione al conferimento. Secondo quanto emerso, la Commissione Ispettiva avrebbe accertato gravi criticità tecniche nei provvedimenti autorizzatori, nonché molteplici violazioni della normativa di riferimento. In particolare, sarebbero emersi riscontri negativi sulla gestione in fase operativa della discarica in assenza delle garanzie finanziarie obbligatorie e l'assenza di autorizzazione all'esercizio a far data dalla scadenza del decreto del marzo 2012. Emersa è ancora la mancata inclusione dei valori limite per le emissioni fissate per le sostanze inquinanti, la non indicazione degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, nonché l'assolvimento mancato dell'obbligo di comunicare alle autorità competenti e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni. Un quadro di contestazioni davvero pesante, dunque, se confermato, qui si aggiungerebbe la valutazione sui rilievi avanzati dal Sindaco di Furnari nell'intervento ad opponendum depositato al Consiglio di Giustizia Amministrativa e nei vari atti di opposizione ai vari progetti presentati, compresi quello della captazione del biogas e dell'impianto di percolato, per la mancanza dei pareri degli enti preposti secondo il regime vincolistico, poiché l'area ricade nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del torrente Mazzarrà. Rilievi, infine, riguarderebbero anche le modalità di impermeabilizzazione, l'indicazione della capacità totale della discarica in termini di volume utile e le ripercussioni di carattere ambientale nell'ambito dell'effettiva protezione messa in atto ed esistente nelle matrici del suolo, del sottosuolo e delle acque. A oggi si evidenzia che le autorizzazioni oggetto di rivisitazione da parte dell'assessorato sono scadute al maggio 2014, scrive il Sindaco di Furnari Mario Foti, che esprime soddisfazione per l'operato della commissione ispettiva proposta dall'ex assessore Marino, ma attende e auspica che finalmente l'autorità regionale e gli altri organi giurisdizionali accertino la responsabilità presente e pregressa per il grave danno ambientale causato al comune di Furnari.